della sua squadra, Conte dice Di Maio, deve far dimettere Siri. Vogliamo andare avanti con questo governo perché dobbiamo portare a casa tutti i punti del contratto. La Lega sbaglia se parla di crisi, dovrebbe invece prendere le distanze dall'inchiesta per corruzione che coinvolge il sottosegretario Siri e chiarire anche la natura del rapporto con l'ex deputato di Forza Italia Paolo Arata. Salvini ha detto di averlo incontrato una volta sola, ma anche su questo stanno sorgendo troppe contraddizioni.